Controlli dei NAS in 572 strutture sanitarie e socioassistenziali per anziani in diverse città italiane. In 141 RSA sono state riscontrate irregolarità, pari al 25%. Contestate 197 violazioni penali ed amministrative per un valore di 43 mila euro, denunciate 36 persone e segnalate ulteriori 136 alle autorità amministrative. 6 le strutture ricettive sospese o chiuse per valore economico stimato in oltre 4 milioni di euro. Dagli accertamenti è emerso che 87 operatori sanitari e personale addetto alle strutture sono risultati privi di copertura vaccinale, divenuta obbligatoria ad aprile scorso. Inoltre alcuni interventi, tra i quali quelli dei NAS di Pescara, Genova, Torino e Catania, hanno rilevato situazioni di anziani non adeguatamente accuditi e in alcuni casi non venivano garantite le terapie necessarie. Sono state inoltre rilevate situazioni di sovraffollamento. Infine quattro anziani di una RSA di Monteodorisio in provincia di Chieti a seguito dell'intervento dei NAS sono stati vaccinati.